Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere il modello è finito potrete vederlo da vicino a Lucca Comics & Games vi sarò ospite dello stand NKG mi farà fare una dimostrazione pratica di due ore dove vi illustrerò come raggiungere questi risultati due ore sono poche per cui non assemblerò sicuramente un modello per intero però questo sarà il modello su cui faremo scuola e per portarmi avanti nel procedimento ho già primerizzato e poi salerò i pezzi per velocizzare tutto tutto il tutorial questi sono i pezzi di questo modello che andrò a fare più avanti quindi niente, vi farò vedere come testurizzare con lo stucco come fare la tecnica del sale come fare i lavaggi e un invecchiamento pesante del mobi suite o qualsiasi altro make up voi state facendo niente, detto questo torno comunque sempre a ringraziarvi per il mi piace che mettete saluto il forum di NKG che mi ospiterà per l'occasione e niente, ci vediamo a Lucca domenica dalle 5.19 nello stand di NKG per questa dimostrazione pratica ciao ragazzi, a presto Lucca è vicina e sicuramente molti di voi saranno le prese con il trasporto dei modelli quindi eccovi qui una dritta per trasportare i vostri model kit in tutta sicurezza anche in giornate come queste piovose perché è un problema, un grosso problema per noi modellisti è appunto trasportare i modelli in tutta sicurezza non a caso vedete inquadrata questa scatola in questo caso l'ho presa da Amy Store molto probabilmente o forse no qualcuno la conosce comunque è un grosso store gestito da cinesi e per pochi euro ho preso questo box l'ho trovata tranquillamente anche all'Erua Merlin qualsiasi altro negozio serve per metterci dentro qualsiasi cosa non è a scopo alimentare cioè qualcuno può interessare quindi dicevo come trasportare i modelli ecco qua ha scoperto l'Arcano ovviamente sono munite di coperchio le cose sono semplicissime si piglia il modello si prende la Patafix o UU-TAC reperibile in qualsiasi negozio anche di modellismo a questo punto se no cartoleria, supermercato, ovunque si prende il nostro modello lo si adagia al centro se è solo lui come in questo caso specifico e si attacca UU-TAC, così ecco fatto vedete il modello adesso faccio la cagata il modello è assicurato alla superficie non resta che metterci il coperchio ed è fatto potete trasportarlo tranquillamente fino all'uovo della mostra fregandovene altamente della pioggia e degli urti perché comunque è resistente altra piccola dritta ovviamente dovete prenderlo dalla profondità giusta questo è sottinteso io ho preso le misure del modello e l'ho agito di conseguenza vi è scomodo? in questo caso il modello è uno solo quindi non ci sono problemi se però avete uno o più modelli può risultare scomodo l'inserimento di questi ultimi all'interno soprattutto se avete delle scatole più grosse quindi cos'è che si può fare? non altro che ribaltare la scatola e posizionare il modello sul coperchio quindi se avete più modelli potete posizionarli al meglio ecco fatto e mettete la scatola ovviamente la dovete trasportare così ok questo è quanto ci vediamo Luca ragazzi ciao 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 Grazie.